Un premio che ho voluto fortemente, che voglio condividere con i quattro sindaci che si sono succeduti dopo Carlo Pace. Questo perché? Perché ha lasciato il segno, perché è una persona per bene, una persona lungimirante, una persona che ha tracciato un solco importante che poi è stato seguito anche da chi lo ha succeduto. Quindi riteniamo che questo premio possa dare un'impronta importante per la città, per il nostro Abruzzo, in base al fatto che vogliamo mettere a confronto le buone politiche sul territorio, vogliamo mettere a confronto le idee innovative per far crescere la città, coinvolgendo anche l'università, ricordando che Carlo Pace era un importante professore di architettura a Pescara e proprio in quegli anni il polo universitario ha avuto un impulso importante. E quindi dal prossimo anno vogliamo indire questo primo premio e le prossime settimane, i prossimi mesi, insieme anche a Geremia Mancini, ex consigliere della giunta Carlo Pace, con il quale ho partorito quest'idea, faremo sapere alla stampa e alla cittadinanza cosa accadrà il 28 marzo 2023. Sono già passati cinque anni, anche se devo essere sincera, per me è come se fosse passato un giorno, perché è sempre presente nei nostri pensieri, ma la cosa che proprio mi fa più piacere è che dovunque vado, chiunque incontro ha delle parole meravigliose nei confronti di mio padre, cioè basta che io metto anche una semplice foto mia con mio padre su Facebook, immediatamente è pieno di commenti che lo ricordano con affetto e con amore, quindi per me è come se fosse ancora qua, io lo sento veramente vicino in tutti i momenti della mia giornata. Ma la cosa bella è questa, che lui viene ricordato al di là della politica, viene ricordato proprio come persona, ha lasciato un'impronta proprio a livello personale, di onestà, di grande umanità, che questi sono i grandi valori che poi è trasmesso a noi, a noi famiglia, a noi figli, a noi tutti, questa è la cosa più importante.